L'incontro si svolgerà nella serata di domani a partire dalle 20.45.21 circa. Parteciperanno la senatrice Granato Bianca, il professor Colonna, il dottor Scoglio e io. Cercheremo di spiegare un attimino la situazione vaccinale in Italia perché c'è una gran confusione considerati i vari decreti che si sono susseguiti nel tempo e che in realtà sono andati tutti a modificare l'unica legge 44 che era stata emanata. Cercheremo di far comprendere anche il significato e il peso di quella che sarà la sentenza della Corte Costituzionale che verrà emessa più o meno a fine novembre e dalla quale purtroppo ovviamente dipenderà anche il destino di noi italiani. La Corte Costituzionale potrà emettere una sentenza di accoglimento, di rigetto o di inammissibilità. Se si accoglie quella che è l'eccezione di incostituzionalità della norma verrà a decadere quello che è l'obbligatorietà vaccinale. Se è un rigetto purtroppo viene confermato l'obbligatorietà vaccinale, se invece viene dichiarata l'inammissibilità è un nulla di fatto. Ci sono parecchie preoccupazioni sulla sentenza che verrà emessa da parte della Corte Costituzionale in quanto alcuni membri della Corte Costituzionale già da tempo si erano espressi sulla validità dei vaccini. Vi è da dire però che alla data odierna questi vaccini non hanno garantito, quantomeno non nei termini per cui sono stati tanto decantati. Siamo ancora in attesa di sapere quali sono effettivamente i dati su questi vaccini, anche perché purtroppo i media non evidenziano tutti quelli che sono gli effetti avversi dei vaccini. Io personalmente sto difendendo diverse persone, tra cui una persona che è anche deceduta, e il problema è che è difficile sempre dimostrare la correlazione fra la dose e il vaccino, perché nessun medico si vuole assumere questa responsabilità.